La terza è quella buona Dal teatro sociale di Castiglione Gliersiviere Allora la nostra amica di carta bianca Mi ha affossata Vabbè, allora quindi lo faccio io il video Ciao, tu chi sei? Io mi chiamo Valentina di Puma e sono una giornalista Dell'Alto Mantovano Disperata, è disperata Valentina, allora Che cosa succede domani 24 novembre? Vediamo se sei preparata Non porto il pettine Lascia stare lei Io ho parlato di bambole, se ne andate in tilt Allora il muro delle bambole Per dire no alla violenza sulle donne Una cosa importante Siamo presenti in diverse città Contemporaneamente Milano, Genova, Roma Venezia Ma io insieme all'amica Giosquillo Vi aspettiamo domani domenica 24 Alle ore 11 in via dei amicis Tu ti sei ripresa? Sì Mi venite a prendere? Venite a prenderla, vi prego Mi ci portate Mi ci sei ripresa? Mi non c'era tratta di andare